Perché devo stare tre giorni, c'è un uomo che è libero per questo. Ho parlato con quelli che sono stati crocifissi come torturatori, che sono onesti i lavoratori, che fanno uno dei lavori più difficili del mondo. C'è qualcuno che è stato condannato ancora prima del processo. Ci sono torturatori senza torturati, aggressori senza aggrediti, denunciati senza denuncianti. C'è qualcosa che non funziona. Qua ci sono delinquenti che ogni giorno sputano, insultano, minacciano, aggrediscono. C'è un carcere gestito nella migliore maniera possibile e con la mancanza di personale. Ho visitato addirittura un reparto universitario. Ci sono 27 detenuti, alcuni dei quali all'ergastolo, che stanno facendo l'università e quello viene garantito di tutto e di più. Però gli uomini e donne indivise dal penitenziario non meritano di essere trattati come delinquenti, come assassini, come torturatori. Mi risulta che ci sia un video. Quindi più chiaro di così. Se le presunte torture dipendono da un video è che lo facciano vedere a tutti. Che tutti gli italiani possano vedere queste immagini e ognuno si farà la sua idea. Io, fra le guardie e i ladri, sto sempre con le guardie. Se qualcuno sbaglia, paga, per carità di Dio. Non mi sembra questo il caso. Sospendere 15 persone, additare 15 lavoratori come il male del mondo, senza uno straccio di processo, mi sembra veramente da paese incivile. Anche perché qualcuno dei benpensanti di sinistra che sta condannando questi ragazzi vorrei che passasse una giornata di lavoro dentro, nei loro panni. Io ho sempre fiducia alla magistratura. Però in questo caso c'è un video. Cioè questi sono sotto accusa per un video. Facessero vedere a tutto il popolo italiano questo video. In modo tale il popolo italiano si possa fare una sua idea. Spero che questi 15 ragazzi vengano prosciolti il prima possibile, che i quattro sospesi dal servizio possano tornare a lavorare il prima possibile. Lei l'ha visto questo video? No, non l'ho visto. Io come faccio a vedere il video? È un atto in mano al giudice. Però gli accusati l'hanno visto. Gli accusati l'hanno visto. E sono ovviamente le persone più tranquille del mondo, nel senso che mi hanno ribadito che non hanno fatto nulla. Non è volato una mosca né uno schiaffo. E quindi dalla tortura al nulla c'è una bella differenza. Sì. E sono orgoglioso della solidarietà dei loro colleghi. Avessero qualcosa sulla coscienza non sarebbero stati col gruppo oggi e non chiederebbero di far vedere a tutti il video che proverebbe le loro presunte violenze. Quindi il mio invito alla magistratura è di fare in fretta perché uno... Stiamo parlando di accusa di tortura. Non stiamo parlando di lesioni, violenza. Tortura è una roba brutta. Cioè il reato di tortura è una roba brutta. Quindi uno che è un padre di famiglia andare in giro col cartello torturatore sulla schiena è una cosa impegnativa. Se così non fosse... Se così non fosse... Non basteranno le scuse. Non basteranno le scuse.